La Commissione elettorale nel momento dell'autoproclamazione di Sergio Blasi a segretario del Partito Democratico Pugliese non si era ancora insediata. Dunque Blasi ha anticipato illegittimamente la Commissione, un atto che all'altro candidato alla segreteria, Guglielmo Minervini, ospite della nostra direttora Anna Maria Ferretti nel Tg delle 14, non è piaciuto affatto. Mi sembra un'entrata gambatesa, inutile in un clima politico che si stava volgendo nella direzione giusta, almeno dal mio punto di vista. Anche l'autoproclamazione ha avuto questo sapore? Ma direi che è stata un po' affrettata, sarebbe stato bello che magari giungesse in questo percorso e non fosse vissuta come un'accelerazione brusca più utile ad una esibizione muscolare. Diciamo abbiamo vinto piuttosto che ad un processo che si apre indipendentemente dai numeri ma con una convergenza di obiettivi. L'unità ovviamente anche in vista delle regionali 2010 che ha come candidato per il Partito Democratico sia per Blasi che per Minervini, Nichi Vendola. Credo che proprio in questi passaggi noi dobbiamo dimostrare la diversità, usare il massimo di correttezza e di trasparenza, rendere pubblici i dati. Ecco finalmente questi dati che non si riesce, sono passate 48 ore, che non si riesce ad avere modo di conoscere. Io penso che sarebbe un bel gesto che vengano resti pubblici anche a voi giornalisti. Insomma non abbiamo nulla da nascondere, il PD che nasce non ha scheletri nell'armadio, non ha nulla da nascondere, nasce in modo limpido, così come domenica i cittadini hanno chiesto. E dopo le primarie del PD il presidente della regione Puglia, Nichi Vendola, si rivolge al neolider Pierluigi Bersani. Facciamo una grande alleanza contro il populismo, afferma Vendola. E' sbagliato dire mai con l'Udc e mai con Rifondazione, spiega il leader del Movimento Sinistra e Libertà, il quale per le prossime regionali rivolge un invito a Rifondazione. Facciamo un'alleanza di tutte quelle forze che sono a sinistra del PD. Dal centrodestra pugliese invece a commentare le primarie è il consigliere regionale di NPDL Nino Marmo. Le hanno vinte il senatore tedesco che ha evidenziato la prima sconfitta di Emiliano e Sandro Frisullo che alle primarie ha candidato la moglie, dice Marmo, il quale si chiede quali posizioni prenderà ora l'Italia dei valori.